Ben trovati all'appuntamento con le news di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre. In apertura l'operazione Fake Pass, chiusi 32 canali Telegram e 4 persone indagate per truffa e falso in atto pubblico. Gli indagati, tra cui due minorenni, vendevano online i falsi Green Pass in cambio di criptovaluta o buoni acquisti per piattaforme di shopping online. È quanto accertato dalla Polizia Postale di Milano e Bari, con il coordinamento delle procure di Roma e Milano e del Tribunale dei Minori di Bari. Passiamo ad altro. Monitoraggio settimanale Covid-19 con il commento del professor Gianni Rezza, distribuito dal Ministero della Salute. Vediamo. Continua a salire l'incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese, anche se meno velocemente della scorsa settimana e l'incidenza si fissa intorno a 68 per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda l'RT, invece abbiamo una tendenza alla stabilizzazione, però purtroppo ancora al di sopra dell'unità, siamo infatti intorno a 1,56. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente del 4 e del 3%, quindi ben al di sotto della soglia critica. Considerata la velocità di trasmissione della variante Delta, che è attualmente predominante nel nostro Paese, è bene continuare a mantenere i comportamenti prudenti e soprattutto correre a vaccinarsi. Bisogna essere tanto veloci quanto la staffetta italiana alle Olimpiadi, perché è il modo migliore per ottenere il Green Pass e quindi svolgere tutte le attività in sicurezza. Continuiamo con i beni culturali. In Sicilia centinaia di tamponi gratuiti eseguiti all'ingresso di parchi archeologici e musei, con contestuale rilascio di carta verde, valida 48 ore. Il servizio continuerà nelle prossime settimane ed è offerto dalle ASP territoriali e dai commissari straordinari per l'emergenza Covid, oltre che dagli enti gestori dei parchi e musei. È un'iniziativa che abbiamo voluto mettere in campo insieme, sottolinano gli assessori Samorà e Ruggero Razza, in modo da consentire a tutti le visite ai luoghi di cultura nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Passiamo ad altro. Una discarica abusiva apparsa a Catania in via Gambino. Il servizio di Lella Battiato Maiorana, che ha sentito per noi l'assessore Fabio Cantarella. Sono da via Gambino, oggi 0-9, 0-8, 2021, che praticamente fa paura oggi. Abbiamo fatto enormi sacrifici per dotare quella zona della raccolta differenziata porta a porta, non solo per i condomini, ma anche e soprattutto per le attività commerciali. Suona come una sfida alle istituzioni trovare al posto dei cassonetti una discarica abusiva alimentata da chi avrebbe invece dovuto fare la raccolta differenziata. Su questo non faremo sconti a nessuno, ne ho parlato col sindaco. Già nei prossimi giorni la Polizia Ambientale presiderà i luoghi e poi abbiamo già chiesto alla ditta dei rifiuti di fornirci un elenco completo di quelle aziende che non fanno trovare la raccolta differenziata, perché andremo lì a sanzionarle. E lo ricordo, è anche prevista, in caso di reiterazione dell'illecito, la sospensione dell'attività. Rimaniamo a Catania e passiamo al Bellini in Fest. Continua la splendida rassegna dell'estate catanese. Sul palco si è esibita la celebre cantante Loredana Bertè. Domani non lo so, perché la vita va di fredda, è sempre troppo da fare. Domani magari, magari, questo mare non ci può notare. E l'ho pagata sulla pelle, e non mi ha dato il resto. E la sera ai locali, locali, che dono troppo presto, che dono troppo presto. Questa sera non ti dico no, puoi portarmi fino a Messico, ma non andiamo a andare in qualunque posto. C'è troppa gente in agosto, e questa sera non ti dico no. Arriviamoci nel autostoppo a chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so. Spazio adesso alle breaking news. Sono stati oggi i funerali di Antonio Iacono, il giovane di 29 anni morto a causa di un incidente stradale, che si è verificato sabato pomeriggio sulla Ragusa Santa Croce. Le esequie si sono svolte al preziosissimo sangue di Ragusa, e la funzione religiosa è stata celebrata da Don Giuseppe Russelli, Don Giovanni Filesi, Don Giuseppe Iacono. Gremita la chiesa di amici, familiari e di tutti coloro che hanno voluto dare l'estremo saluto ad Antonio, un ragazzo conosciutissimo a Ragusa. Il parroco, durante la sua omelia, ha così consolato tutti i presenti. Antonio è vivo e sta celebrando la vera Pasqua, quella eterna. Al termine della messa, a palloncini bianchi, ricordo del ragazzo, troppo presto venuto a mancare all'affetto dei familiari distrutti dal dolore. In particolare i genitori e i fratelli con cui gestiva il bar Rogoi e la fidanzata Francesca. La famiglia ha deciso di donare in beneficenza le offerte che saranno raccolte. Proseguono gli interventi per incendi boschivi nel Palermitano. Ancora una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando di Palermo, impegnati nel fronteggiare diversi incendi boschivi nella provincia, che hanno messo duramente alla prova il territorio. Le fiamme, favorite dalle alte temperature e dal forte vento, che continuano ad imperversare su tutta la provincia, hanno interessato maggiormente i comuni di Partinico, Campofelice di Fitalia, Vicari, Roccapalumba e Polizzi Generosa. La sala operativa del comando di Palermo ha messo in campo diverse squadre per fronteggiare le fiamme sviluppatesi ed a salvaguardia dei centri abitati. I canader della flotta del Corpo Nazionale stanno effettuando lanci nelle zone impervie. Meno tamponi, più casi, su poco più di 9.000 test, rintracciati 822 positivi, segno che il Covid continua a correre. Il tasso di positività schizza al 9% e la Sicilia è prima sia per nuovi contagi che per ricoveri. Adesso ad avere il virus sono oltre 14.000 persone. In 24 ore 153 guariti, 3 decessi. Ospedalizzazioni, superata quota 400 in area medica, più 24 in un giorno, 418 in tutto, 54 in terapia intensiva, più 7 numeri che avvicinano l'isola alla zona gialla. Sul fronte dei nuovi casi, nelle nuove province, Buma a Palermo, dove sono stati registrati 244 positivi, 137 a Ragusa, 110 a Catania, 80 ad Agrigento, 72 a Caltanissetta, 70 a Siracusa, 55 a Trapani, 28 ad Enna e 26 a Messina. Per frenare l'avanzata del virus si continua a vaccinare anche fuori dagli hub. L'obiettivo è raggiungere le fasce di età con percentuali minori di vaccinati. Negli ultimi giorni, intanto, sempre più persone stanno scaricando il certificato verde che permette tutti gli spostamenti. A livello nazionale, il tasso di positività sale al 2,8%, oltre 203.000 test e 5.735 positivi. Sono 109 in più i ricoverati nei reparti Covid, 2.930 in tutto, 299 gravi, più 11 in un giorno, 11 anche le vittime. Dai trasporti agli ombrelloni è stangata sulle vacanze estive degli italiani, almeno secondo quanto denuncia il Codacons. Una vacanza di 10 giorni, secondo l'associazione, costa in media l'11% in più rispetto al 2020, con la spesa pro capite che aumenta di 98 euro tra spostamenti, alloggi e servizi. I trasporti maritimi hanno subito incrementi medi del 18%, i biglietti aerei sono aumentati del 17%, mentre per i villaggi vacanza occorre spendere in media il 15% in più. Rincari anche per i pacchetti vacanza, alberghi e strutture ricettive e ristoranti. Nel dettaglio l'indagine del Codacons registra incrementi generalizzati di prezzi e tariffe per chi si sposta in auto, che dovrà mettere in conto una maggiore spesa per i rifornimenti a causa dei rincari di benzina e gasolio, e per chi sceglie di partire utilizzando aerei e traghetti. In tutta Italia si registrano inoltre incrementi medi del 5% per l'affitto giornaliero di ombrelloni, lettini e sdraio, con punte del più 40% in costiera amalfitana. Anche le strutture recettive, come hotel, bed and breakfast, resort e case vacanza, con il Covid hanno modificato sensibilmente le proprie politiche tariffarie, con rincari prezzi più alti anche per bar e soprattutto ristoranti, dove pranzare o cenare costa in media il più 2% rispetto allo scorso anno. 120 opportunità di lavoro a bordo delle navi di Costa Crociere, che cerca figure per l'area ospitalità in vista del graduale rientro in servizio dell'intera flotta dopo lo stop imposto dal Covid. La compagnia lancia la selezione dei candidati con due recruiting day, l'1 e il 2 settembre, organizzate con lavoroturismo.it. La ricerca è per animatori, aiuto cuochi, pasticceri, casari, receptionist, fotografi, istruttori sportivi, addetti alle escursioni, croupier, babysitter. Buona conoscenza della lingua inglese e precedenti esperienze sono i requisiti richiesti per tutte le posizioni, oltre a competenze e titoli di studio per le singole posizioni. I candidati, dopo la registrazione online da inviare a lavoroturismo.it con in allegato il curriculum vite, passeranno una prima selezione per passare poi ad un videocolloquio e test linguistici e infine all'incontro in videocollegamento appunto nel corso del Recruiting Day. I 120 selezionati andranno a lavorare a bordo delle navi di Costa Crociere che da fine settembre prevede la ripartenza progressiva di altre unità, oltre alle quattro già rientrate in servizio per tutta l'estate, Costa Smeralda e Costa Fiorenza nel Mediterraneo Occidentale, Costa Luminosa e Costa Deliziosa in quello orientale. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete raggiungerci anche sulle pagine Facebook Globus Television e Globus Magazine, oltre che sul canale 819 del Digitale Terrestre. Grazie per aver guardato il video.